Duplice omicidio con le aggravanti della premeditazione e del vincolo discendente con la figlia, detenzione abusiva di arma da fuoco. Sono queste le accuse di cui deve rispondere Veli Selmanagi, il cosovaro 46enne che il 16 ottobre ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie Fatime, 45 anni, e una delle figlie, Senade, di 21 anni all'esterno di un supermercato a piscina. L'uomo, reo confesso, è stato interrogato oggi dal GIP del tribunale di Avezzano che ne ha convalidato l'arresto. Selmanagi si è avvalso della facoltà di non rispondere rifacendosi alle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti la sera del Duplice omicidio. L'uomo che in un altro procedimento penale deve rispondere di violenza sessuale nei confronti di due figlie, tra cui la stessa Senade, ai magistrati aveva detto che quelle accuse lo avevano destabilizzato, che lo facevano soffrire e che mai avrebbe abusato delle figlie. All'esterno del supermercato avrebbe cercato di colloquiare con l'ex moglie e Senade respingendo quelle accuse infamanti. Poi la discussione sarebbe degenerata e la figlia gli avrebbe gridato di andar via poiché nessuno dei familiari voleva più vederlo. Sarebbe stato a quel punto che il cosovaro ha estratto la pistola e ha fatto fuoco colpendo le due donne con quattro colpi al torace, tre per la figlia uno per la ex. L'uomo è stato fermato dai carabinieri mezz'ora dopo il delitto nei pressi di un bar di Venere frazione di Pescina. Il revolver era nell'auto. Secondo il legale difensore Selmanagi viveva una situazione di forte disagio da circa due anni e mezzo. Non poteva vedere i suoi figli perché allontanato dalla casa coniugale e la sua immagine era stata ritagliata da tutte le foto familiari. All'ex moglie e la figlia, prima che aprisse il fuoco, avrebbe detto di dire la verità ai magistrati. L'udienza dinanzi al GUP per la vicenda delle violenze sessuali è stata fissata prossimo 26 novembre. Intanto i familiari delle vittime hanno avviato le pratiche per il rimpatrio delle salme in Kosovo dove saranno sepolte.